Autoressa è su? Pronto, polizia. Ti passi? Sì, dimmi chi sei? Bomelli. Sì. Passami al baghino, questa è una notizia urgente. Aspetta, vediamo un attimo. Pronto, operativo? Bomelli. Dimmi, Enzo. Dovevi sapere una cosa? Questi 300, 400 che stanno muovendo, da dove? Da tutte le parti, Enzo, da tutte le parti. Vengo verso la cultura, interrogativo? Sì, anche. Allora, qua sotto siamo in 20, eh? Sì, sì, voi a un certo punto vi rifugiate dentro, questo ve lo dico io. Sì, ragazzi, ci saranno 4 miliardi di macchine quasi lì. E che cosa ti devo dire se qua non sappiamo un cazzo neanche noi? Non c'è l'unità di crisi qua sopra, di scienziati, non c'è? Eh? Sì, sì. Pensai che non si stavano dicendo. Sì, allora sapevamo tutto, non sapevamo una mazza. Ditevi che a palla scorsa stanno giocando a palla a volo. Se magari qualcuno smette viene fuori, ci danno la mano. Ah, va bene, d'accordo. Facciamo un pronto impiego, vengono qua davanti. Ok, d'accordo. Ciao, ciao, ciao.